Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Abbiamo visto Giovanna, bellissima, sorridente, al Festival di Sanremo, seduta in prima fila assieme a suo figlio per assistere alla 73esima edizione della Kermesca Nora, sostenendo il suo Amadeis, che ha condotto per la quarta volta consecutiva il Festival. Giovanna Civitillo non sbaglia un colpo, anche se è meno presente rispetto al passato in TV, per potersi dedicare alla sua famiglia. Attualmente è ospite fisso di E sempre Mezzogiorno, condotto da Antonella Clerici, che è la regina dei programmi culinari della RAI. Se Antonellina è sempre pronta a far sorridere tutti con le sue battute e le sue gaff, portando il buon umore nelle case degli italiani, Giovanna non è da meno e il successo è assicurato, come confermato dai dati di ascolto. La moglie di Amadeis, di recente, ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto in cui si evince la presenza di una terza persona rispetto alle due che si vedono in foto. Una foto che ha lasciato molti dubbi tra i fan. In tanti, di fatti, hanno pensato ad una gravidanza in corso, ma chi è la futura mamma? Il mistero è stato presto svelato, in quanto Giovanna, ospite di Nei tuoi panni di Mia Ceran, si è fatta immortalare proprio assieme alla giornalista che è in dolce attesa. Così ha deciso di corredare lo scatto con una dolcissima dedica per la conduttrice che diventerà presto mamma, scrivendo «In queste foto in realtà siamo in tre» e il meraviglioso Pancione spinge «Nessun nuovo bimbo in arrivo in casa Sebastiani, Amadeis e la Civitillo non saranno genitori bis per il momento, mai dire mai!» Grazie a tutti!